OI 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 Benvenuti tutti pari per tutto il calento Sono Pikachu, sono un po' di nuovo su Devil My Critory Siamo tornati nella torre I am the storm that is approaching Che mi chiedo ma veramente questo qua Per tutto questo cazzo di tempo non stato Per un momento metto questo Anche se credo che con Arkham quasi quasi me lo tento Me lo tento di utilizzare Quicksilver Secondo me è un Buonasera Maddonna che botta Da Cristo Abrappare Ma 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 La Ma 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 Come ho fatto manca? Avvicinatevi, avvicinate, avvicinate Bravi così i picchioni miei, bravi così Adoro quando i demoni sono belli picchioni Adoro quando i demoni sono picchioni in testa Che ti fanno queste caccate che ti si buttano proprio Permettete, starei facendo un commento, grazie Ah è vero, aspetta Qua Sì perché qua non bisogna colpire loro Ma bisogna colpire lo specchio che li genera Ok, questo Occhio, salta, 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 salta Ma vaffanculo E quanto ci vuole? E rompiti Oh ecche Alleluia Alleluia ers Quanto vorrei che la telecamera ruotasse un po' più rapidamente. Si può salire davvero su qualcosa. Ma l'ho uccisi? Ah no. Grazie, era ora. Ma è troppo presto. E ora il pezzo che più mi rompe il coglione. Bisogna ammazzare si stronzi nel breve tempo. Are you ready? Grazie a tutti! Ma si può giocare così? Ok, fatto! Allora... Ok, grazie a cazzo! Grazie! Interrompi il ciclo vizioso alterando tempo e spazio, forse è possibile inserirci qualcosa. Hai usato Sonsaro? C'è quel posticcino che cazzo? Sì, dovrei farcela via. Ok, grazie a tutti! Ok, grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La migliore trasformazione di sempre! Vogliamo vedere al fratellino? È un flop! Cioè, fondamentalmente si è trasformato in uno stracazzo di blob! Cioè, questo... è un'altra cosa che si è trasformato in uno stracazzo di un'altra cosa! E' un'altra cosa! E' un'altra cosa che mi serve a sapere perché in realtà queste cose non danno noia perché... Cosa... Però se ti pigliano in combo ti fanno un danno dalla madonna, quindi... Prima te li togli di mezzo meglio è! Oh là! Bancato! La vera dottura di Arkham è quando diventa giallo perché fa questi cacchi di bisce volanti che rompono i coglioni come se non ci fosse un domani che si riescono a schivare... Perchè per il resto non fa molto Arkham, fa semplicemente così... Tira manate e spara bisce! Ok! 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 Oh! Perfetto! E va! Vediamolo! Dove no! Oddio! Mi hanno piegato in testa fondamentalmente! Ho scoperto! che diavolo succede schiva 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 ok schivo schivo e sparo schivo e sparo schivo e sparo schivo e sparo easy 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 dai via uno due uno due uno due guarda così no stop non ne sbaglio una guarda boom grande sweet sweet bitch come on bitch ancora allora ce la mette tutta per chiagarmi in testa questo qua non è tanto il fatto di non riuscire è il fatto che sei duro come la roccia brutto bastardo o tu non sei un puro sangue se sono un umano che è diventato o no no Sì Ma questi due non potevano essere alleati fin da subito piuttosto che fare tutto questo cinema Per il babbo? Oh merda Fratellino Questo se l'è presa Sì, se l'è presa non poco Stammi vicino il fratellino perchè qua E poi in realtà tra i due il pelino più maggiore Per un pelo il maggiore è più vero se non erro Olè Olè Ok, fin qua è andata bene fratellino Il mio non ci... Merda Stammi vicino il fratellino così ci potremo vicenda Ok Ok No Non c'ho la puttana E va E va Datevene al diavolo Figlio di puttana Eh dai che sei andato Eh che ho fatto Ecco fatto Olè Nel culetto Sempre che sia al culo quello Non si capisce ragazzi Non si capisce dove finisce la testa dove inizia il culo Che mo' E col taglio incrociato porci non c'è sta niente Santo che tenga Il match è fatto Che Jackpot! Grazie! E chi arriva primo? Ah! 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 Eh! Porci! L'abbiamo portata a casa! Beh coglioni! Tanto di cappello a noi! Manca soltanto una missione Porci! E poi abbiamo finito The My Cry! Ma la prossima missione la vedremo nel prossimo episodio! Perché là è scominciare! Sapete come fare il link alla pagina di Facebook? Sapete iscrivetevi al video! Se non siete iscriviti su YouTube iscrivetevi! E noi ci rivediamo nel prossimo video! A presto Porci! Ciao ciao!